Il Forum delle Acque è un'idea nata per rilanciare la festa delle acque storica del Piediluco e anche il suo significato ancestrale e simbolico del rapporto con l'acqua perché viene organizzato sempre nel sostituzio d'estate, quindi ci sono dei forti valori simbolici. Vogliamo alzare un po' l'asticella del livello di discussione facendo questo forum. Questo forum è fatto in collaborazione con la Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua sotto l'UNESCO. Abbiamo avuto il contributo importante dalla Fondazione CARIT e il patrocinio del Ministero degli Esteri e stiamo radunando delle persone importanti riguardo la ricerca scientifica e la comunicazione sul tema dell'acqua. Quindi il forum verterà principalmente sul tema rigenerazione dell'acqua e quindi vogliamo mettere a confronto gli accademici con la realtà del territorio per arrivare a un documento programmatico per dare delle soluzioni alle problematiche che ci sono a Piediluco. E poi abbiamo dei focus sia sui eco-musei, questi musei dell'acqua che i rappresentanti italiani vengono da noi a parlare delle loro esperienze, sia anche sull'educazione e la sostenibilità, educazione outdoor, educazione che è molto importante e che crediamo che in questi luoghi, in questo contesto possa avere una rilevanza a livello nazionale.